Siamo stati all'interno della Fondazione Villa Giovanni XXIII Onlus di Bitonto. Punto di eccellenza non solo nella gestione, ma perché se nel resto della Puglia le RSA sono state considerate focolai di contagio per i numerosi casi che si sono verificati, tra anziani, pazienti e personale sanitario, la Residenza Sociosanitaria Assistenziale a Bitonto ha da subito adottato tutte le norme previste per preservare i 130 anziani all'interno della struttura e le oltre 100 unità del personale. Cosa vi ha spinti ad adottare prima di ogni direttiva delle norme stringenti? Perché le notizie che arrivavano soprattutto dalla Lombardia erano preoccupanti, per cui al di là di quelle che potevano essere le disposizioni ministeriali che poi sono arrivate intorno all'8 marzo, noi già dal 29 abbiamo avuto paura di questa situazione, perché chi lavora in queste strutture capisce e sa quanta fragilità abita in queste strutture. Per cui per anziani per i quali una banale influenza può diventare fatale, figuriamoci il coronavirus. I casi stanno via via diminuendo, ci stiamo spostando verso una fase 2, possiamo tirare un piccolo respiro di sollievo? Sì, ma con estrema cautela, perché già i dati della Lombardia ci dicono chiaramente che la curva fa presto a risalire. E poi noi siamo particolarmente preoccupati dalla fase 2 e dalla fase 3. Nessuno si illuda che la situazione in RSA è cambiata, anzi, io dico e sto dicendo ai miei collaboratori che forse dobbiamo anche alzare ancora di più il livello di protezione, perché come mi è più volte capitato di dire, quando si aprirà la fase 2 e la fase 3 noi a casa non incontreremo più solo la moglie o i figli, ma troveremo persone che a loro volta hanno incontrato n persone. Io vorrei ricordare che i nostri dipendenti non sono stati sottoposti a tampone e quindi il rischio che possano veicolare all'interno della struttura il virus è altissimo, per cui quando si aprirà questa fase, magari poi la fase 3 e la fase 4, per noi non è cambiato assolutamente nulla, anzi, il virus continuerà a circolare, certo circolerà in maniera diversa da oggi, però noi davanti a noi dobbiamo avere una prospettiva di lungo tempo, almeno per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale. Mi rendo conto che questo non è semplice, gli operatori sono stanchi, perché lavorare con visiere, copricapo, mascherine in un lavoro che ha contatto stretto e anche prolungato con gli ospiti non è semplice, ma dobbiamo tenere botta se vogliamo continuare a mantenere questa situazione, che è una situazione diciamo tranquilla. Si parla di momento di convivenza con il virus, attualmente qual è il più grande timore? La paura sia per il personale che per i pazienti all'interno della struttura? All'interno la più grande paura è che, come dire, anche inconsapevolmente si possa commettere un errore. Vi assicuro che anche questo è un peso psicologico enorme. Il nostro personale è preoccupatissimo, sente su di sé, diciamo, forte questa responsabilità morale. Mi hanno chiamato dipendenti anche di domenica per dirmi di un amico che si è positivizzato oppure di un compagno che aspettava di essere un tampone rinofaringeo. Quindi nessun rischio, però mi hanno chiamato subito, perché hanno chiamato subito anche il responsabile sanitario, la dottoressa Lisangela Pascale, proprio per sincerarsi di non correre alcun rischio. Ai familiari è stato interdetto l'accesso alla struttura per proteggere i familiari all'interno. Loro hanno sentito la mancanza degli affetti e in che modo avete accorciato le distanze? Allora, io ho rinunciato, dopo la chiusura del centro diurno, a sospendere dal servizio gli educatori professionali, perché ho capito subito che qualcosa stava accadendo di grave all'interno della nostra struttura. Spezzare questo legame tra gli ospiti e le loro famiglie è innaturale. Non dimentichiamoci mai che noi siamo dei surrogati. La famiglia è fondamentale e noi non la potremo sostituire mai. Però era necessario che i nostri educatori, che venivano impegnati nel centro diurno, che adesso è chiuso, ci dessero un supplemento di aiuto in attività occupazionali, nelle videochiamate. Stiamo cercando in ogni modo di far passare delle giornate serene in un contesto che di per sé sereno non è, è disumanizzante. Ho più volte pensato anche a questo discorso, cioè non riusciamo nemmeno a riconoscerci attraverso queste mascherine e queste visiere proprio che cambiano le fattezze delle persone e quindi è importante e fondamentale questo rapporto ravvicinato con gli ospiti e anche se, devo dire, non condividendole, alcune circolari, anche ministeriali, ci chiedono di lasciare gli anziani all'interno delle loro camere, di non farli partecipare a nessuna attività in comune, capite bene che questa cosa non è facilmente realizzabile, soprattutto con i malati di Alzheimer. Gli anziani stanno vivendo un momento particolarmente duro e quindi noi dobbiamo cercare di contemperare la sicurezza, ma anche, come dire, condizioni minime perché possano sostenere psicologicamente questa pressione. All'interno della struttura, tra l'altro, avete creato una vera e propria area destinata all'isolamento, nel caso in cui ci fossero stati casi sospetti o accertati con una equip dedicata. Per quanto riguarda l'area di isolamento, noi in qualunque momento si dovesse verificare un caso sospetto, quindi una febbre che non sia, diciamo, ascrivibile ad altro, o fino a quando non siamo certi che non possa essere, diciamo, escluso il coronavirus, abbiamo utilizzato il centro di urno per organizzare cinque posti letto, dove, appunto, queste persone vengono isolate, in attesa del tampone, cosa che è già avvenuta nelle settimane scorse e, per fortuna, tutti i soggetti casi sospetti sono stati sottoposti a tampone e il tampone è risultato negativo. Chiaramente, per queste persone, noi dedichiamo un personale dedicato, nel senso che questo personale, solo per loro, e non deve avere assolutamente contatti con l'altro personale, di nessun genere, proprio per evitare qualsiasi tipo di contagio. Il periodo che si apre, dunque, dal 4 maggio è un periodo delicatissimo, vero? È una fase delicatissima, perché, per esempio, già il decreto del Presidente del Consiglio prefigura la riapertura dei centri di urni. È evidente che non possiamo pensare di tenere chiusi servizi che comunque sono importanti per le famiglie. Immaginate il centro di urno per i malati di Alzheimer e un sostegno, un servizio molto importante. Servizi che, fra l'altro, si avvertiranno, diciamo, di cui si avvertirà l'urgenza, soprattutto quando le persone torneranno a lavorare, perché in questo momento la pressione, anche il blocco dei ricoveri, è stato sostenuto perché le famiglie sono rimaste a casa. Quando torneranno di nuovo a lavorare e non potranno occuparsi dei loro cari, che sono gravemente ammalati e non autosufficienti, è evidente che si dovrà pensare di nuovo a riaprire il ricovero anche dall'esterno. Bisognerà farlo con tutte le precauzioni possibili, i tamponi all'ingresso, un isolamento per 15 giorni, fino a quando con sorveglianza attiva per vedere se sorgono sintomatologie. Insomma, il periodo che si apre è un periodo delicatissimo, ma che dobbiamo saper affrontare con responsabilità, perché come deve riaprire il Paese, dobbiamo riaprire noi anche in termini di assistenza. Non possiamo pensare all'infinito di bloccare i ricoveri, di non far più entrare la famiglia all'interno della struttura. Dobbiamo ripensare a una presa in carico della persona non autosufficiente e contemperando esigenze, che sono certamente quelle della salvaguardia e della salute delle persone, assistite e degli operatori, ma anche la sostenibilità economico-finanziaria di queste strutture, che evidentemente vivono anche attraverso le reti di ricovero.